Tino e Renata insieme per l'addio si terranno venerdì alle 15 nella chiesa della Madonna Pellegrina di Piazzale Cervi in Commenda. I funerali di Tino Bellinello, 87 anni, e di Renata Berto, 78 anni, marito e moglie. Bellinello avrebbe ucciso la moglie con un colpo di pistola per poi togliersi la vita. Una tragedia che ha scosso nel giorno di San Valentino tutta la commenda. Dopo una vita insieme anche l'addio li vedrà fianco a fianco. Smog, Rovigo fuorilegge. Emergenza Smog a Rovigo. L'ultimo dato è incredibile. In città al 19 febbraio è già stato superato il limite che dovrebbe valere per un anno, ai giorni di sporamento della soglia della concentrazione di polveri sottili. Una situazione gravissima per la quale non si vede alcuna soluzione all'orizzonte. Attenti al finto tecnico. Un furto di contanti e gioielli a stienta, messo a segno da un finto tecnico che simulando di dover eseguire alcuni controlli per una sospetta pericolosa fuga di gas, ha convinto l'anziana vittima a farlo entrare in casa, da dove ha poi rubato gioielli e contanti. L'invito delle forze dell'ordine è sempre quello di non fidarsi e di chiamare immediatamente il 112. Il tribunale deve restare in centro. Un consiglio comunale fiume è proseguito sin verso mezzanotte, presidiato da numerosi commercianti con tanto di cartelli che domandavano che il palazzo di giustizia non venga spostato dal centro. Alla fine, a questo proposito, le varie forze politiche hanno trovato, pur con difficoltà, unità con una mozione unitaria. Per il sindaco ci sono ancora margini per fermare l'arrivo del carcere minorile e quindi espandere il tribunale all'ex carcere. La protesta dei lavoratori. Un centinaio di lavoratori di Ecoambiente, la società che cura la raccolta e il conferimento dei rifiuti in discarica, in mattinata hanno dimostrato di fronte alla prefettura e quindi incontrato l'assessore comunale Dina Merlo. La paralisi della fusione col consorzio RSU preoccupa i dipendenti e circa 400 famiglie. AS2 bilancio positivo. Note positive per AS2, l'azienda che eroga servizi tecnologici a tutti i comuni del Polesire. Per il decimo anno consecutivo il bilancio infatti relativo all'anno 2019 ha chiuso in positivo e non mancano importanti progetti per il futuro, come ha spiegato per Paolo Fregato, presidente del CDA. Di ritorno dall'avventura. Un momento speciale a Porto Viro al quale ha partecipato tutta la città per festeggiare i quattro freebikers i giramondo cittadini al trientro dalla loro nuova avventura a pedali. Hanno portato con sé ricordi, suggestioni e impressioni da Myanmar. Entusiasmo ed emozioni. Telecamere nella sacca. Un progetto per garantire la massima videosorveglianza possibile della sacca di Scardovari nel comune di Portotolle. Purtroppo spesso oggetto delle sgradite attenzioni dei malviventi che rubano i motori fuori bordo dei pescatori, producendo danni gravissimi. Il progetto è portato avanti dall'amministrazione del sindaco Roberto Pizzoli a S2, l'azienda che eroga servizi tecnologici ai comuni del Polesine. La Casa dei Riformisti. Convegno in mattinata in Pescheria Nuova a Rovigo, promosso da Aliveneto, la Lega delle Autonomie Locali, sul tema Affare Gentile, la Casa dei Riformisti Locali per l'Italia. Tra i relatori il sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo, poi tavola rotonda con il sottosegretario agli interni Achille Variati e il sottosegretario all'economia Pierpaolo Barretta.